ma dove cazzo sono finito ma dove cazzo sono finito in questo posto di merda mi dici di tornare indietro ma come faccio che non si riesce neanche a girare qua cazzo mamma mia che nervoso che nervoso ma chi è che mi rompe i coglioni adesso quell'imbecille del mio agente vediamo se ha buone notizie pronto come dove sono sono in bosnia a cercare quell'imbecille di miscio a proposito sei riuscito a sapere qualcosa come al solito inutile come la merda ma l'affanculo va dove cazzo è qua dove cazzo è chi è che mi chiama ancora chi cazzo sempre sempre a chiamare sempre a chiamare pronto pronto tana sono miscio hai una valigetta con te me la devi riportare cosa miscio ma mi spieghi dove cazzo sei finito sono due mesi due mesi che ti cerco dappertutto sono finito fino a qua in bosnia a cercarti dove cazzo sei grande dana bosnia è il paese più bello del mondo tu hai fatto molto bene a darmi ma devi tornare il tempo sabato 4 maggio abbiamo show a crema vendetta io sono qua in italia dobbiamo vendicarci di cassa cosa in italia in italia e io adesso che cazzo ci faccio qua in bosnia e poi mi spieghi come cazzo hai fatto a tornare che sei praticamente ricercato in tutto il mondo sì dalla io ho visto che sono ricercato e tra l'altro foto è anche molto bella ma non ti preoccupa io ho chiesto mia cugina lei mi ha dato un metodo infallibile giochi go 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 Grazie per la visione!